buongiorno bambini buongiorno famiglie pronti per una nuova puntata del brico vangelo buongiorno a tutti certo siamo pronti ancora per un cammino un cammino che oggi ci porterà in montagna insieme a degli amici buona visione il vangelo di oggi ci dice che in quel tempo gesù prese con sé pietro prese con sé giacomo prese con sé giacomo e andarono a pregare in cima al monte salire sul monte era molto faticoso a tal punto che quando arrivarono in cima certo gesù si mise a pregare però i suoi discepoli si addormentarono giacomo giovanni pietro si addormentarono forse proprio per la fatica salire sul monte non era stata un'impresa facile e quindi si addormentarono quando si svegliarono guardarono in alto e videro gesù che aveva una veste bianchissima e accanto lui c'erano elia e mosè e allora pietro disse ma signore è così bello stare qui è meraviglioso stare qui tra noi che siamo amici fermiamoci qui mettiamo qui una tenda per ciascuno di noi e rimaniamo in questa bellissima cosa mentre pietro stava dicendo queste cose arrivò una nube che coprì questa bellissima visione quindi non vedeva più e sentì una voce che veniva dal cielo questi è il figlio mio l'amato ascoltatelo e quindi pietro capì che era la voce di dio che diceva che bisognava proprio ascoltare gesù in fondo pietro voleva lui dire quello che bisognava fare invece con questa voce venuta dal cielo aveva capito che era lui che doveva ascoltare quindi ancora prima di mettersi a parlare doveva imparare ad ascoltare ecco che allora da questa vicenda pietro capì che prima di dire quello che vogliamo fare quello che noi vorremmo fare bisogna imparare ad ascoltare gesù e questo che ci ha detto quella nube e dio che attraverso di essa ci ha parlato prima ancora di dire facciamo questo facciamo quell'altro impariamo ad ascoltare gesù è proprio questo carissimi il messaggio che vogliamo fare nostro anche oggi stiamo passando tutti un momento un po difficile lo sappiamo abbiamo tante cose che ci preoccupano perché ci sono un po di pensieri per la testa e noi come cristiani vogliamo pensare che anche quando gli esseri umani vogliono litigare tra di loro ci vuole gesù in mezzo gesù in mezzo che fa fare la pace anche a chi non vorrebbe farla perché è lui che ci insegna a fare pace e a togliere tutto quello che ci divide carissimi è proprio vero prima ancora che andare a dire a dio quello che deve fare un po come ha fatto pietro dobbiamo imparare tutti noi ad ascoltare ad ascoltare la voce di dio che ci parla ogni giorno e ci insegna a fare del bene a noi e agli altri preghiamo carissimi perché gesù metta la pace nel nostro cuore metta la pace intorno a noi che ciascuno di noi impari a vivere con quella pace che solo gesù ci può dare allora impariamo ad ascoltare impariamo ad ascoltare il bene che c'è intorno a noi buona domenica a noi e a tutte le persone del mondo anche a quelle che stanno soffrendo e tanto grazie a tutti